Ciao amici, sono Luigi Cozzi e sono qui per parlarvi di una importante novità. Come forse alcuni di voi già sapranno è uscito da poco tempo il mio film Contamination, è uscito finalmente in edizione italiana in DVD, questa è la prima edizione italiana in assoluto di questo film che io ho fatto molti anni fa e che è diventato un piccolo classico del cinema splatter fantascientifico. È disponibile tra l'altro in qualunque negozio che venda DVD e altre cose in vari formati, c'è questo DVD per esempio, potete prenderlo, oppure lo potete acquistare in Blu-ray, questo è Blu-ray sempre di Contamination, a disposizione di tutti coloro che amano vedere benissimo i film sul proprio televisore, ma non solo, è uscita contemporaneamente anche quest'altra edizione di Contamination. Questo è un vero e proprio pacchetto per edizione speciale perché ha tanti contenuti extra, molto particolari, molto belli e soprattutto ha anche un intero libro dentro dove c'è la versione a fumetti del film, cioè il film è stato ridotto a fumetti e lo potete leggere in quest'album a fumetti che è allegato a quell'edizione, però non è l'unica questa quarta edizione, non è l'ultima, ne è stata preparata addirittura una edizione super speciale, questa che vedete in questo momento, che è una confezione proprio particolare, che si apre e dentro si scopre la presenza dell'edizione speciale che vi ho segnalato in precedenza, questa qui, ma non solo, ci sono altri contenuti particolari, c'è per esempio questa spilletta, qui c'è dentro una spilletta, che è la spilletta che è un nuovo assassino di questo mio film, poi c'è questa specie di placca memorabile dedicata agli appassionati del film e buon ultimo c'è anche un vero e proprio libro dedicato a Contamination, a questo mio film, tutte queste cose sono in questa edizione super extra, super speciale e quindi è stato un trattamento eccezionale dedicato al mio film Contamination e quindi io vi invito a voi, scegliete la versione che preferite e godetevi lo spettacolo di questa bellissima edizione italiana, finalmente!